Peggio per te, andiamo, lei vuole passare in studio? Andiamo, la compagno, mi segua, mi segua, stiamo arrivando Ah, il pezzo forte, il bagno, c'è il bagno, me l'ha dimenticato Il signor Bucci Rosso, il funzionario Rai Signor Bucci Rosso, signor funzionario Rai, ci dica qualcosa, in diretta, dica qualcosa Cosa pensano gli italiani della televisione attualmente? Ci faccia sentire È feruta la carta Beh, io chiuderei su questa massima